noi dei quaderni del bardo edizioni abbiamo pubblicato testi in apnea di adrian sucio con la traduzione di roxana lazar e valerio barbu si tratta di una raccolta di poesie assolutamente forte austera senza se senza ma un tipo di poesia che arriva alla carne viva del dell'essere della dell'esistenza della vita di ogni giorno nel senso che non non dà l'opportunità di scelta se non quella dell'eternosi alla vita sì l'eternosi alla vita proprio di inizio alla memoria si tratta fondamentalmente di un nichilismo attivo nei versi di adrian sucio che distrugge per costruire costruire tutto ciò che è possibile per esistere alle tempeste della della vita ed ecco che non ci sono possibilità di scegliere se non quella di auto cannibalizzarsi in caso di ammettere le proprie colpe o di aver eluso qualche promessa ma sicuramente questo non fa parte della scelta di vita di adrian sucio né come essere umano né come poeta grazie 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 grazie